Buongiorno, sono Andrata Magnini di Crestron Italia, sono il responsabile dei prodotti Lighting e dei grandi progetti per quello che riguarda il professionale e il commerciale. Oggi abbiamo avuto uno speech all'interno della convention SIEC focalizzato sul discorso della implementazione di un risparmio energetico mediante sistemi di automazione. Quindi abbiamo voluto evidenziare come con i prodotti Crestron e anche con non solo l'hardware ma il software Crestron, in cooperazione con altri prodotti, è realmente possibile implementare una gestione corretta di un edificio commerciale. E questo per dare cosa? Per evidenziare agli installatori audio-video l'opportunità di proporsi ai clienti come non soltanto manutentori dei loro sistemi ma anche come una chiave di volta per poter rendere i sistemi sempre più efficienti. Quindi porsi nei confronti di un cliente finale non soltanto come l'installatore audio-video ma come la persona che si prende cura dell'edificio intero. E questo avviene all'interno della convention SIEC qui a Milano dove i marchi più rappresentativi per quello che riguarda il mondo audio-video stanno proponendo agli installatori di creare una forza comune orientata ad avere sempre una risposta efficiente verso il cliente e inoltre ad avere un interscambio di informazioni e allo stesso tempo anche una formazione all'interno dell'associazione per poter tenersi al passo con i tempi.